Anziché zucchine, melanzane e carote, nell'orto coltivava 50 piante di cannabis indica, meglio conosciuta come marijuana. I carabinieri forestali di Fossombrone hanno arrestato per questo un cinquantenne del luogo che aveva impiantato la redditizia coltivazione in un appezzamento di terra nei pressi della sua abitazione. L'uomo, per nascondere ad occhi esperti le piante di cannabis, le aveva occultate con dei teli verdi oscuranti di quelli che si trovano comunemente in commercio ed inoltre aveva recintato accuratamente il particolare orto rendendone impossibile dall'esterno la visuale. Il tutto però non è passato inosservato ai carabinieri forestali di Fossombrone i quali, durante i consueti controlli sul territorio e di prevenzione degli incendi boschivi si sono insospettiti di questa particolare installazione per un semplice orto. I militari quindi hanno provveduto alle verifiche del caso e hanno scoperto una cinquantina di piante tra esemplari adulti e germogli, oltre a mezzo chilo di infiorescenze essiccate pronte all'uso e materiale per la preparazione e la conseguente consumazione dello stupefacente. Le piante di marijuana ed il materiale rinvenuti sono stati quindi sequestrati ed il cinquantenne arrestato e condotto davanti al giudice del Tribunale di Urbino dove è stato giudicato e condannato per direttissima.